Si allena la Virtus Francavilla, continua ad allenarsi a Chianciano Terme, doppie sedute ogni giorno, al mattino e al pomeriggio. Poi venerdì mattina la ripartenza per Francavilla-Fontana, la squadra sarà libera anche sabato e domenica, mentre lunedì si ritornerà in sede per proseguire con questo strano precampionato. Non sono previste amichevoli per il momento, probabilmente qualcuna se ne farà a ritorno a Francavilla. Nella mattinata di mercoledì c'è stata tanta parte atletica, nel pomeriggio invece anche una partitina a ranghi ridotti, 10 contro 10 in un campo, ovviamente anche questo ridotto praticamente in una metà campo, giusto per iniziare a riprendere confidenza anche con il pallone. Capitolo mercato, Alessandro Celli è un calciatore biancazzurro, lo avevamo anticipato, ma adesso è anche ufficiale, classe 1997 arriva dal Pescara, prestito annuale con diritto di riscatto in favore dei biancazzurri pugliesi. Celli è già in ritiro e è un rinforzo per la difesa della Virtus Francavilla.